Taglia il traguardo dei 70 anni, la mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali più nota ai pesaresi come la Festa dei Fiori. Appuntamento tradizionale di apertura d'autunno che nel compleanno a cifra tonda e nell'anno di Pesaro, capitale della cultura, si presenta con un'edizione speciale dal 4 al 6 ottobre. La location confermata per il terzo anno è quella di Viale della Repubblica prima del ritorno alle origini, previsto per il 2025 quando la festa tornerà in centro storico. La Festa dei Fiori sta diventando sempre più grande, abbiamo avuto molte richieste ma quest'anno nei tempi che ci sono arrivate, ci sono arrivate dal mese scorso non era possibile cambiare location, sicuramente il prossimo anno la Festa dei Fiori la riporteremo nel centro storico e sarà una festa più allargata, non sarà solamente nella piazza anche perché le richieste che ci sono arrivate sono tante ma la cosa fondamentale che anche il sindaco ha voluto che tutte le attività devono essere del nostro territorio. In questi anni la Festa dei Fiori è anche cambiata perché non è solamente il semplice vendita del ciclamino come vedevamo negli anni passati ma l'allestimento è diventato proprio un'opera d'arte e l'abbiamo visto in questi anni nella location che avevamo scelto proprio anche per dare la possibilità a loro di creare perché questo è anche il nostro mondo, lo dico perché comunque vengo dal mondo del commercio e sapete da dove provengo e quindi dare questa possibilità anche a loro appunto nell'esposizione. Non solo commercio, nell'anno di Pesaro capitale la Festa dei Fiori proporrà anche una serie di appuntamenti dedicati all'informazione e alla divulgazione di buone pratiche. I florovivai si sono stati i primi a proporre anche di fare delle iniziative quindi alla palla di pomodoro ci sarà un palco montato dove loro faranno delle iniziative il venerdì, il sabato e la domenica appunto anche per educare le persone su tutto il discorso che riguarda l'ambiente e la transizione ecologica e con la partecipazione anche della scuola, l'istituto Cecchi. Il 4 ci sarà la giornata dedicata all'apicultura quindi tutti gli stand che si occupano del miele quindi faranno degli assaggi, il giorno dopo il sabato sarà dedicato alla scuola appunto come dicevo il Cecchi alle piante e l'ultimo giorno sarà dedicato ai bonsai che comunque da anni che creano all'interno della Festa dei Fiori delle Mostre però in tutto questo voglio ringraziare l'Ufficio Attività Economico per il grande lavoro che ha svolto. Ringrazio la Presidente della Commissione 9 Evelina Nibaglio il quale mi ha seguito in questi mesi e mi ha aiutato nel portare avanti il progetto e quindi ci auguriamo nel bel tempo e soprattutto nella partecipazione dei cittadini.